Allora, eccoci qua con un nuovo unboxing qui a Lega Nerd viene da Amazon questo pacchetto, so già cosa contiene o almeno credo di saperlo, spero di non sbagliarmi dovrebbe essere la nuovissima o insomma appena lanciata, da poco lanciata e-camera di Xiaomi, o come si pronuncia, e-camera credo comunque la nuova action cam low cost di Xiaomi che promette, come tutti gli altri prodotti della marca cinese che tutti amiamo ultimamente, che promette, come dicevo un rapporto qualità-prezzo incredibile abbiamo già visto a fine settembre, sempre su Lega Nerd la recensione dell'SJ4000 che ha avuto un successo incredibile e tra l'altro è la camera con cui sto riprendendo in questo momento e da allora sto cercando un po' di capire quale sarà il successore di questa action cam che aveva dalla parte sua la compatibilità con gli accessori GoPro il prezzo incredibile, allucinante, 100 euro anche meno e la qualità generale diciamo molto più che decente quindi sicuramente non ottima ma comunque molto buona negli scorsi 6-7 mesi ho testato poi altre camere ho provato vari cloni, tipo questo è un clone dell'SJ4000 che si chiama SJ6000, uno schermo più grande ma ha una qualità molto simile e costa forse un po' troppo per la qualità che offre sto provando in questi giorni anche la nuovissima GoPro base che non è altro che una GoPro 1 già incapsulata e viene venduta a 120 euro quindi non proprio economica se paragonata alla qualità che offre quello che invece vado a spacchettare oggi sembrerebbe il prodotto che ha il rapporto qualità prezzo migliore perché si trova, come dicevole, pagata 108 euro spedita su Amazon si trova attorno ai 120, di solito e ha delle caratteristiche tecniche davvero davvero molto interessanti eccola qua, è proprio lei, non ho fatto una figura di merda magari c'era qualcosa altro dentro è proprio lei, quindi e-camera solito box in cartone di Xiaomi in cartone riciclato molto bello, funziona, molto piccolo questa è la versione base dell'action cam ed è anche la versione che vi consiglio ne esiste anche una versione travel penso che si chiami che ha incluso oltre alla camera anche il selfie stick fighetto o quanto volete ma secondo me non merita i soldi in più che chiedono anche perché un selfie stick ormai adesso costa veramente pochissimi euro e bene o male si assomigliano un po' di tutti quanti vado a spacchettare la vediamo dentro ok, quindi come dicevo solita scatolina proviamo ad aprirla eccola qua quindi direttamente dentro alla scatola poco altro se non la camera ho preso la versione bianca perché semplicemente mi piaceva di più rispetto a quell'altra che è gialla e verde è un po' troppo giocosa per i miei gusti questa mi sembra molto bella tolgo immediatamente le plastiche con grande goduria ecco qua esteticamente è davvero bella ricorda molto le gopro chiaramente come tutti gli altri cloni guardatela con il confronto di un SJ6000 clone dell'SJ4000 piuttosto che a una vecchia gopro gli manca purtroppo ed è la pecca che vedo più grossa attualmente lo schermo sul retro che invece è una caratteristica classica dell'SJ4000 e di tutti i suoi diversi cloni per cui in questo caso addirittura questa SJ6000 ha uno schermo enorme dietro che è molto comodo è molto comodo per inquadrare il soggetto per riuscire a capire meglio cosa si sta filmando eccetera 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 chiaramente è una grande comodità che però manca in questa e-cam questa però mancanza è diciamo compensata dalle caratteristiche tecniche intanto lo sportello è già aperto arriva quindi lo sportello aperto immagino che dentro ci sia voglio sperare la batteria vediamo se riesco a mettere e farla partire la mancanza dello schermo sul retro dicevo è compensata dalle caratteristiche tecniche sì perché questa piccola camera di XIOMI monta un sensore molto buono che è il sensore da 16 megapixel Sony Exmor R è lo stesso sensore che viene montato anche sull'action cam Sony ha una qualità davvero ottima si avvicina se non sorpassa l'Ego Pro dall'A3 in su praticamente ha specifiche tecniche importanti insieme anche al processore d'immagine che è lo stesso della vecchia SGI 4000 ma sembra che faccia molto bene il suo lavoro questa camera riprende a 1080p quindi full HD fino a 60 frame al secondo quindi 60-30 a 720 arriva a 120 e ha anche una versione super slow-mo da 240 frame al secondo a 480p che non sarà molto utilizzabile in realtà la cosa veramente interessante è il full HD 60p che è interessante per fare piccoli slow-mo o per riprendere diciamo e poter quindi appunto poi rallentare decentemente la ripresa successivamente metto dentro la batteria in più chiaramente il sensore da 16 megapixel offre una qualità molto più che decente sulle foto cosa che per esempio nella SGI 4000 era il problema più grosso perché aveva ha un processore da 3 megapixel nonostante i 12 scritti in giro e sulla scatola in realtà si tratta di un sensore da 3 megapixel che faceva riprese video se ricordate la mia recensione molto buone direi buone ma foto veramente pessime ok ho messo la batteria ho messo la batteria dovrebbe potersi accendere ora vediamo anche che ha questo sportellino che perderò probabilmente già oggi pomeriggio che però nasconde lo slot per la microSD fino a 64 giga supportati la microUSB tra l'altro apro la parentesi non mi spiego perché ancora sulle GoPro non ci sia la microUSB ma la miniUSB che è una grande scomodità perché la comodità di queste action cam è che gli si può collegare per esempio un battery pack e solitamente ormai tutti i battery pack e tutti i cavi che abbiamo in casa sono microUSB miniUSB è uno standard che è andato da mo' ormai è morto non capisco perché GoPro si ostina a supportarlo sulla sua action cam invece che passare a microUSB che è la cosa migliore e per finire l'ultima porta presente sulla e-camera è una microHDMI alla microHDMI con un cavo specifico gli si può collegare per esempio un monitor esterno HDMI o una TV HDMI e vedere in tempo reale cosa si sta riprendendo diciamo che si può si può migliorare un po' l'inquadratura con questo monitor esterno non sarà proprio comodo a meno che non ne troviate uno super piccolo autoalimentato e con ingresso HDMI da usare magari di fianco questo è un ingresso che utilizzerete davvero molto poco sul lato vediamo il tasto per accendere il Wi-Fi che poi è la caratteristica principale di questa camera perché dico così perché senza il Wi-Fi su questa camera non si possono neanche cambiare le impostazioni fondamentalmente non avendo un monitor per inquadrare non avendo un piccolo display LED come hanno le GoPro per mostrare le impostazioni chiaramente l'unico modo di impostare questa camera è lanciare l'app per Android e poi cambiarle da lì non è una roba io ho letto in molte recensioni ci sono soffermati tantissimo su questa questione che le impostazioni si possono cambiare unicamente via software e che è una grande scomodità in realtà non è tanto quello il punto perché le impostazioni non è che le cambierete tutti i giorni è una cosa che si cambia ogni tanto magari per fare cose molto particolari non so per attivare il timelapse o perché volete passare a una modalità di ripresa particolare con i più frame rate che questa camera offre però in realtà nell'utilizzo diciamo normale la si imposta 1080p 30 o 60 la si lascia lì e quando serve si fa partire il rack e fine della storia ed è una cosa che si può fare direttamente dalla camera quindi non starai tanto a menarla sulla questione impostazioni quello che è vero è che per fare un'inquadratura diciamo perfetta si deve si torna qui un po' a quello che era la GoPro cioè niente monitor per inquadrare come invece hanno come dicevo prima i cloni dell'SJ piuttosto che l'SJ stessa è anche vero che questa è una camera che costa di listino attorno ai 120 euro io l'ho pagata 108 su Amazon spedita a questo prezzo il processore e il sensore che ha dentro sono davvero un potenziale grande affare chiaramente aspetto di fare la recensione totale approfondita per verificare la qualità dell'immagine ma per ora dalle cose che ho visto online questa questa camera è davvero il degno erede dell'SJ 4000 come rapporto qualità prezzo intendo è presente sul mercato anche l'SJ 5000 che è la nuova camera ufficiale di SGV Cam che ha lo schermo dietro il wifi eccetera ma costa quasi 190 euro quindi costa molto di più di questa l'altro grande vantaggio poi concludo di questa camera è che la fa la Xiaomi cosa vuol dire? vuol dire che come tutti gli altri prodotti Xiaomi non c'è solamente una cura nella presentazione dell'hardware e nella qualità generale dell'hardware inserendo specifiche tecniche sempre di alto livello ma c'è anche una grande cura nel software sottolineo il software perché lo sottolineo perché proprio in questo caso in cui è necessario avere un'app per interagire con la camera vedere che cosa inquadra scaricare i filmati eccetera piuttosto che cambiare le impostazioni è fondamentale a questo punto che il software sia decente cosa che invece non c'è praticamente mai nei diversi cloni dell'SJ piuttosto che nell'SJ stessa purtroppo SG Cam non ha sviluppato un software degno di questo nome i cloni presenti sul mercato funzionano alla bella e meglio e l'esperienza finale alla fine se si utilizza il wifi su questo tipo di camera è più economico o anche più costoso come in questo caso non è mai ottimale il poco che ho visto invece su questa nuova e-camera è veramente molto positivo come per esempio gli altri prodotti Xiaomi come per esempio il Mi Band che indosso anche in questo momento che ha avuto grande successo sia per il suo prezzo sia per le sue caratteristiche tecniche ma anche per il software fatto molto bene il software per la e-camera è già presente per Android e funziona direi sembra molto bene non l'ho ancora provato mi è appena arrivata la camera per iOS non è ancora uscito ma è presente una versione preliminare diciamo per il mercato cinese si può già scaricare è completamente in cinese girano delle 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 traduzioni del software adesso ve lo faccio vedere è totalmente in cinese quindi ha ben poco senso in questo momento scaricarlo io l'ho scaricato perché volevo provare volevo provare insieme alla camera direi che manca pochissimo adesso arriverà sinz'altro la traduzione italiano fino a pochi giorni fa non c'era neanche il software per iOS quindi secondo me tra queste settimane prossime insomma manca veramente poco è un prodotto quindi che per ora vi consiglio vi consiglio anche di aspettare la mia recensione completa su Lega Nerd in cui andrò un po' a paragonarla agli altri prodotti della stessa fascia per cui la Hero la Hero 1 nuova l'Aero base di GoPro e la SJ4000 che ripeto è la camera con cui sto facendo questo filmato tutte camere che costano attorno ai 100 euro la SJ4000 adesso in realtà è cadata moltissimo offre una qualità di molto inferiore a questa i-camera mentre la GoPro si porta dietro il nome GoPro ha una qualità di molto inferiore e costa più o meno la stessa cifra ok ci rivediamo su Lega Nerd e grazie per aver visto questo incauto unboxing ciao ragazzi grazie grazie grazie